La Santa Mariela Castagna di Montalto Ufugo nel Cosentino, un vecchio edificio scolastico in disuso, è stato riefficientato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Caracciolo. La struttura sarà destinata alle attività che svolgono le associazioni di volontariato del territorio e allo Sprar di Montalto Ufugo che ospita numerosi rifugiati. Abbiamo creato questo spazio che sarà uno spazio aperto a tutti gli operatori del terzo settore e quindi tutte le associazioni senza fini di lucro potranno utilizzare questo spazio per le loro attività. I lavori hanno riguardato l'adeguamento sismico ma la completa ristrutturazione dell'edificio a partire dai pavimenti, infissi, bagni, una struttura che viene completamente adeguata e si crea uno spazio anche dedicato alla formazione, rivolta soprattutto agli ospiti dello Sprar. L'edificio, ristrutturato grazie ad una serie di fondi che l'amministrazione comunale è riuscita ad intercettare, negli anni 80 ospitava una scuola dell'infanzia e le scuole elementari. Stiamo regalando nuovamente al territorio di Montalto Ufugo e soprattutto alla zona montana del nostro territorio questa bella struttura. era una scuola che era stata completamente abbandonata, come diceva lei abbiamo intercettato i finanziamenti, l'abbiamo sistemata, adesso è veramente una struttura degna di ospitare delle iniziative di carattere sociale, quelle che il comune di Montalto Ufugo sta portando avanti. Il valore aggiunto è che rientra quest'opera in una programmazione di valorizzazione della zona montana, perché le zone montane tendenzialmente tendono a spopolarsi e noi abbiamo voluto dare un segnale, questo con altri che sono in programma nei prossimi giorni.